Incidente mortale nel giorno di Santo Stefano sulla strada statale 121. L'episodio si è verificato tra Ponte Cinquearchi e Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario La Placa, stava percorrendo la strada provinciale con la sua moto, quando per cause da verificare ha perso il controllo del mezzo. Il motociclista ha finito la sua corsa cadendo violentamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato tempestivamente l'elisoccorso. Per l'uomo che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta, residente a Santa Caterina Villarmosa, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatarne il decesso.